Nel Vangelo di oggi preso da Matteo al capitolo diciassettesimo dal versetto 1 e seguenti leggiamo questi è il figlio mio l'amato in lui ho posto il mio compiacimento ascoltatelo. Gesù salì sul monte Tabor e fu trasfigurato davanti ai discepoli Pietro Giacomo e Giovanni trasfigurato da Dio e lui che opera tale prodigio tale meraviglia nella umanità di Gesù un Gesù incredibilmente nuovo l'evangelista sottolinea la sua luminosità il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero cantide come la luce e la gloria di Dio cioè la pienezza traboccante della vita di Dio che rifugia sul volto e su tutta la persona di Gesù e la gloria segreta di Gesù quella vitalità infinita quel fascino quello splendore di vido che abitualmente si nascondeva sotto un'umanità comune e che ora trapela anzi esplode all'esterno seppure per un attimo. I discepoli rimangono letteralmente inchiodati estasiati da tanta bellezza chiedono di fare tre capanne e di rimanere lì in questo scenario si ode la voce di Dio padre questi è il figlio mio l'amato in lui opposto il mio compiacimento ascoltatelo e Gesù la parola definitiva è lui che va ascoltato la trasfigurazione aiuta i discepoli anche noi a capire che la passione di Gesù è un mistero di sofferenza ma soprattutto un dono di amore di amore infinito da parte di Gesù l'evento di Gesù che si trasfigura sul monte ci fa comprendere meglio anche la sua risurrezione per capire il mistero della croce è necessario sapere in anticipo che colui che soffre e che è glorificato non è solamente un uomo ma è il figlio di Dio che con il suo amore fedele fino alla morte ci ha salvati e lui che va ascoltato a tutti auguro una buona e serena giornata nella pace del Signore